Sì, in senso della presunzione che però è da dire, ma poi l'ho perso e noi dobbiamo dare un'altra cosa, non abbiamo dimostrato nessun intervento. Non hai un'idea di caso di volante? Beh, la regola è che non sale, non ha fatto nulla, ma non ha visto. Ho sofferto molto, ma poi però ho fatto il giorno di Raul, ci sono senti quella roma che è la piccola di Raul. Sì, ho sbagliato, non sempre l'ultima occasione, se ci credevo, ero trovato il nuovo davanti a S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S., però è andata così. Ho comunque detto il nostro e non c'è niente, non è il nostro caso che si sa, ma comunque abbiamo mai fatto il nostro.